Buongiorno Volan, buongiorno Riondino, chi lo sa che faccia, chissà chi è, nessuno lo sa con certezza, c'è solo che si chiama, Dottor Gembe, ma lo sapete tutto, è già finita, il sabato e la domenica c'è il Dottor Gembe, a che ora è? Alle 13. Continua per tutta la stagione con ospiti dal vivo e tanta musica, i Bollani e i Riondino che conducono. Ma non solo loro qui siano? No, c'è un notteo. Il notteo Mirko Guerrini. Mirko Guerrini. Grazie. Grazie.